cari amici dell'oliveto nuovamente qui e come vedete qui sono passati i cinghiali hanno dato una bella rata questo fa parte della normalità non ci sono che non c'erano culture particolari poi smosso un po la terra fine stagione e loro gli hanno dato una bella rivoltata e qui i cinghiali cinghiale caprioli ce ne sono in questa zona va bene per ora è tutto ai prossimi video ciao ciao